Non so neanche da dove cominciare. Quando scegli i piatti, devi pensare al tipo di pranzi che intendi dare, al tipo di cibo che vuoi cucinare. Ah, ecco, guarda. Dunque, non devi avere paura di mescolare. Anzi, è importante unire stili e decori diversi. Quello che devi fare è animare la tavola, ravvivarla con colore e raffinatezza. Ecco il vero scopo. Ci ho detto, alla fine della storia, troverai la giusta... combinazione. Oh, grazie, grazie. Molto gentili, grazie. Andiamo.